Sta capitando sempre più spesso purtroppo anche sul posto di lavoro di colleghi che contraggano il covid e pur con pochi nessun sintomo rimangono giustamente a casa. Le situazioni sono due che scatti il periodo di malattia previa la relativa prescrizione medica oltre al tampone oppure previsto l'infortunio sul lavoro in caso di lavori a rischio quando sia dimostrato o altamente probabile di aver contratto il covid durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pensiamo ai medici agli infermieri ma anche le persone che fanno le pulizie negli ospedali e nei reparti oppure ai commessi dei negozi tutte le situazioni dove le persone lavorano a stretto contatto con il pubblico. In questo caso segnalano dal patronato Acli ebbene presentare la domanda di infortunio velocemente all'INAIL per aver riconosciuto il diritto pratica che anche da qui possono seguire per aiutare il lavoratore a districarsi in questo periodo complicato. Il fatto che la malattia venga riconosciuta come infortunio sul lavoro può dar diritto anche in futuro a degli indennizi qualora ci fossero degli aggravamenti o si verificassero delle patologie legate al fatto di aver contratto il virus. C'è poi una terra di mezzo che non si sa come gestire quando il lavoratore dopo 21 giorni di isolamento presenta un tampone ancora positivo. Per il ministero della salute può andare al lavoro perché non contagioso in quanto la carica virale è bassa ma il datore di lavoro ha invece bisogno di un tampone negativo. Sì in questo caso è comunque buona cosa sentire direttamente l'asla oppure il medico di base per avere le indicazioni precise secondo quello che è previsto dalla normativa e dal ministero della salute.